Domani 8 dicembre Gela celebra l'Immacolata Concezione e secondo gli antichi riti prescritti dai padri, la comunità cittadina tutta, rinnovando la propria singolare unità, si ritrova attorno al suo pastore, il vescovo di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, per celebrare la Santa Madre di Dio nella chiesa San Francesco d'Assisi in Piazza Municipio, dove, ripetendo i gesti di una tavica tradizione, il sindaco, le autorità civili e militari rinnovano il voto di fedeltà, Memori dello scampato terremoto del 1693 Di mattina la messa della cosiddetta Jibildon, che noi traduciamo a Bedramar, una parola araba, Jibildon, alle 5 e mezza, però inizierà alle ore 5 con la processione, partendo da Piazza Padre Pio, infiaccolata, Don Raimondo celebrerà questa prima eucaristia alle 5 e mezza, poi seguiranno le varie messe, 7, 8, 9, 10, infine il pontificale presieduto dal nostro vescovo, Don Rosario Gisana. In occasione del solenne pontificale delle 11 è prevista una significativa iniziativa, sarà infatti svelata una tela del maestro gelese Lino Picone, collocata sull'altare maggiore, in ricordo del settantesimo anniversario di istituzione a parrocchia. Per la prima volta verrà scoperto un dipinto, una prima tela, sono due, sono due grandi opere, quella di ieri si tratterà della disputatio Maria, la disputa teologica tra la scuola francescana e la scuola domenicana, proprio sull'immacolata concezione della Beata Vergine Maria. È da vedere e poi meditare, interpretare, scrutare. È un quadro di sintesi di tutta la storia francescana, l'amore alla Madonna, alla Vergine Immacolata, quindi è la prima volta che viene dipinta la nostra Immacolata. Nel pomeriggio alle 16 si svolgerà la presentazione dei bambini alla Sacra Effigie dell'Immacolata e subito dopo il canto delle litanie annunzerà l'uscita del simulacro che verrà portato a spalla per le vie cittadine. Il ritorno della Madonna in chiesa è ancora previsto? Come sempre non si fa così tardi, è previsto sempre verso le 10, 9 e mezza, 10. Poi di che ci verranno i fuochi d'artificio? Fuochi d'artificio che la gente spontaneamente dona e questo è un segno anche di affetto.